È un progetto che prevede che chi mette le risorse in questa iniziativa sono le famiglie del nostro territorio, sia in termini di vicinanza. In tutti questi anni abbiamo assistito 155 bambini presenti nelle famiglie pesaresi. Il progetto prevede un'adozione di vicinanza, quindi lo stanziamento di 600 euro a famiglia a bambino, che sono gestite da un tutor che ha il compito di spendere questi soldi per il benessere del bambino e ha anche il compito di aiutare la famiglia a rientrare e essere rinclusa nella società. 51 famiglie che ogni anno finanziano questo progetto, più altri donatori estemporani. E un altro dato molto interessante sono i più di 30 tutor volontari che hanno deciso di formarsi e ad abbracciare questo progetto perché hanno riconosciuto non solo un valore economico-finanziario ma veramente un valore di inclusività. Un altro dato a me è importante che nel 2020 abbiamo avuto un 40% di aumento di richieste in Caritas per cui siamo qui a rendicontare e a raccontare che purtroppo il bisogno è ancora molto alto. Questo progetto è nato proprio nella logica di non solo intervenire in termini economici con il contributo annuale ma questa figura, io mi permetto di fare una puntualizzazione sulla figura del tutor cioè la persona che poi accompagna e che diciamo cerco un attimino di favorire relazioni anche fiduciarie, amicali di capacità di condivisione per cui è una vicinanza. Io adesso prendo un termine oramai ripetuto tante volte anche da Papa Francesco è un modo per aiutare le persone nella logica della compassione, della tenerezza e della vicinanza. Questa presenza anche dei Lions e della Rover che ci aiuteranno fa capire insomma che è una prossimità sulla quale troviamo solidarietà, inclusione, apertura anche da parte di realtà del territorio. Pesaro della Rover è un Lions Club che collabora con Caritas Diocesana già da diverso tempo. Lo scorso anno con delle tessere per l'acquisto presso i supermercati, 100 tessere per 100 euro caricati ciascuna quindi con un impegno per il club di 10.000 euro. E quest'anno abbiamo voluto aiutare le famiglie sicuramente in difficoltà e in particolar modo in questa crisi economica cogliendo il bisogno e stando vicino in particolare ai minori. L'Istat ci ha illustrato che il numero dei minori in difficoltà a seguito della crisi economica è aumentato e quindi abbiamo pensato di sposare questo progetto di Caritas con un impegno biennale che ci vede impegnati per 6.000 euro contribuendo appunto con il nostro supporto economico a sostenere 5 bambini per due annualità perché per noi insomma era un modo per stare vicino alla comunità e alle famiglie in difficoltà e ci sentiamo molto coinvolti da questo punto di vista. Chiaramente è un progetto aperto alla cittadinanza perché si basa proprio sulla condivisione di questo problema e che ciascuno di noi è chiamato a farsene carico. Molto praticamente si può andare sul nostro sito e fare anche una piccolissima donazione per sostenere questa iniziativa.